Un'indagine della Federazione Autonoma Bancari Italiani e dell'ASL pone l'attenzione sulle condizioni lavorative della categoria. Il sindacato evidenzia la necessità di ridurre lo stress, i particolari nel servizio di Lorenzo Materazzini. Il 64% dei bancari Umbri sta vivendo un momento di disagio sul lavoro. Lo dice un'indagine promossa dalla sezione regionale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, condotta in collaborazione con l'ASL2, presentata presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. È importante sottolineare che, a differenza di quello che si pensa di solito, la situazione in cui c'è un'aggressione mediatica alle banche, coloro che lavorano nelle banche in verità stanno vivendo un evidente stato di disagio. I nostri dati sono incontrovertibili, sono forti. I 458 questionari compilati da altrettanti dipendenti di banca fotografano una situazione definita preoccupante. Il 62% degli intervistati ammette di provare malesseri fisici tali da indurli ad assumere medicinali. Il 64,8% ritiene che la causa principale sia l'ambiente di lavoro e la cattiva organizzazione. A creare stress anche i repentini e continui cambi di ruolo, nel 71% dei casi, e la pressione sul controllo dei risultati da parte dei superiori, nel 72%. Il sindacato, per bocca del segretario Sileoni, chiede dunque di abbandonare la logica più pressioni, più produzione, più utili, in virtù della promozione di buone pratiche aziendali che riducano lo stress senza ridurre la produttività. La situazione in Umbria è la stessa delle altre regioni in Italia. Per chi lavora in banca e per chi gestisce una banca, il bene primario è la stessa clientela.